Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accisi. Allora, oggi c'è stata la giornata dei calzini spaiati, e sicuramente ve ne sarete resi conto, data la mole incredibile di foto di calzini spaiati e di persone che indossavano calzini spaiati sui social. Dopo c'è chi magari avrà pensato che moda del cazzo, ok, e invece chi ci avrà visto giustamente un messaggio sociale per questa iniziativa, messaggio che effettivamente c'è. Adesso non starò qui a spiegarvelo, basta usare Google per una volta per qualcosa di utile, basta mettere calzini spaiati per leggere la storia e tutto quello che sta a significare questa cosa. In breve è un'iniziativa nata da una maestra per spiegare agli alunni la diversità, per accettare le varie diversità. Io devo essere sincero, nel corso degli anni queste iniziative, se da un lato penso che facciano del bene, da un lato mi chiedo sempre cosa portano, cosa effettivamente cambia dopo. Sto discorso lo faccio sempre dopo ogni giornata mondiale contro qualcosa, giornata internazionale a favore di qualcosa, quando vedo che sempre più gente si attiva in quel giorno, in un determinato giorno, ma dopo i problemi restano, anzi, non è che restano, sono sempre di più, sono sempre di più. Vedi la violenza contro le donne, vedi il bullismo, vedi tante cose. Lo stesso pensiero sinceramente lo faccio anche per questa iniziativa purtroppo, è lodevole, sempre meglio che ci sia, il fatto che non ci sia. Però, cosa cambia effettivamente dopo? Mi rifaccio un'altra cosa che girava nelle settimane scorse, sempre sui social, quando c'è stata la mania di mercoledì, della serie tv di mercoledì, e del balletto, che è diventato virale, ok? Giravano delle frasi, un discorso in cui si diceva adesso tutti apprezzate mercoledì, dite che ha una gran ragazza e tutte queste cose, però dimenticate che le persone come mercoledì, era scritto in queste parole, sono le stesse persone che magari nella vita reale vengono sempre di più bullizzate, sempre di più derise, perché strane, perché diverse, perché non convenzionali, e tutte queste cose qua. Ed era un discorso che mi trovava d'accordo al 100%, perché alla fine di facciata siamo tutti santi, ok? Siamo tutti pro qualcosa, a favore di qualcosa, contro qualcosa, ma dopodiché le cose non funzionano. Perché non funzionano? Quindi vuol dire che abbiamo due facce, quando c'è da mostrare qualcosa, quando c'è da mostrare una bandiera, quando c'è da mostrare, da condividere qualcosa, siamo tutti santi, siamo tutti buoni, siamo tutte belle persone. Dopo nella realtà però siamo l'opposto, e questa è la verità. Faccio anche un altro esempio. Avevo visto un post tempo fa che era stato, insomma, che dei ragazzi avevano dato fuoco a un, avete presente quei frighi dove si mettono dentro i libri, per lo scambio libri, nei parchi. le telecamere avevano ripreso queste persone, allora tutti i commenti che erano arrivati dicevano adesso bisogna denunciarli questi ragazzi, bisogna dare una punizione esemplare, bisogna fare così, cioè non la possono passare, ci sono le immagini, bisogna fare, andare dai carabinieri, eccetera, eccetera. quando questa cosa è stata fatta i commenti sono cambiati, hanno cominciato a scrivere eh sì però vabbè, adesso vengono penalizzati troppo, vengono, cioè viene, gli si, come si dice, gli si rovina la vita, bisognerebbe punire i genitori, non è così che si fa, quindi prima punizione, dopo quando la punizione in teoria verrà presa, no, non bisogna far così, per dopo dire che bisogna iniziare a cercare di sensibilizzare questi ragazzi, bisogna fare un tot di cose, insomma la gente non è mai contenta, è questo il fatto, la gente non è mai contenta. E la cosa che mi fa anche un po' sorridere è sta cosa qua, vengono anche tanto criticati i ragazzi, vengono criticati i giovani, ma i giovani seguono semplicemente l'esempio degli adulti, ok? E gli adulti che esempio danno? Questo particolare momento storico, ma anche, ormai sono un po' di anni, che esempio danno? Che esempio danno tutti quegli adulti che per strada corrono come dannati, che cercano di superarsi, si mandano a fanculo, si suonano, non riescono a star fermi, devono correre sempre di più? Che esempio danno quegli adulti divisi sempre in fazioni, che non passano il tempo a commentarsi, a mandarsi a fanculo, a dirsi parole, a cercare, a minacciarsi? Che esempio diamo? Noi, anche se di testa è sempre giovane, è comunque un adulto. Che esempio stiamo dando? E questo è il problema, secondo me. Bisogna sensibilizzare i ragazzi, ok? È giusto sensibilizzare i ragazzi e la diversità, tutto quanto. Però ci sarebbe meglio fare anche un corso per gli adulti, per sensibilizzare gli adulti e per ricordare agli adulti che deve partire da loro la rivoluzione, ok? Perché i ragazzi hanno bisogno di esempi e se gli esempi sono quelli che sono sotto i nostri occhi tutti i giorni, non andremo mai da nessuna parte, ok? Buonanotte.